Nei servizi che avete fatto, quindi guardi, è sotto gli occhi di tutti i telespettatori, abbiamo visto soltanto giovani maschi. Allora, o scappano da una guerra e lasciano a casa, in mezzo alla guerra, le moglie con i figli, oppure non scappano da una guerra. Non credo che lasciano a casa le mogli con i figli in mezzo alla guerra e loro scappino. Evidentemente sono immigrati clandestini, non stanno scappando da una guerra. Ma sono giovani che hanno avuto una forza di attraverso il deserto. Non a caso i dati del Viminale dello scorso anno, su 170 mila arrivi, la stragrande minoranza sono persone che hanno avuto lo status di rifugiatore politico. Quindi evidentemente siamo dando un visto alloggio gratis ai immigrati clandestini. Che molti di quelli che sono arrivati poi in realtà si rivelano clandestini.